Musica Prima che qualcuno inizi a flammare, a dire Oh mio dio, questo video l'hai fatto per dimostrare che sei più forte e altre cose No, non è vero per niente, perché come dico sempre le ranked sono dettate dalla squadra che ti trovi Quindi dalla fortuna che hai nel beccare gli altri compagni di squadra E questo qui è stato un bellissimo game che abbiamo giocato io a Ceris contro tra l'altro gli italiani Fighter e Carnifex che sono leggende di Overwatch italiano Quindi spero vi piaccia questo gameplay Non c'è niente, nessuna dimostrazione di forza eccetera eccetera Ma è solamente un game bellissimo e anzi GG a Fighter e Carnifex Perché ci hanno fatto un partitone contro e lo vedrete da soli ragazzi Che game incredibile è, veramente una delle più belle ranked di Overwatch che abbia mai fatto e visto Travelling to Hanamura Oooo Annal muro? Siamo con l'Itas, però ci abbiamo scr 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 Oh è buono Yo Calvin, at this rate we might as well 24 hours straight Oooo shit dude, reversing the fucking legend Ce l'hanno con noi Shiro Carnifex dude, the tracer Siamo con l'Italian, it's Legos Oooo Legos Oyeee Non mi fa entrare la mia cosa, la mia Sombra me? Are you going to play Sombra? I don't know guys Never stop fighting for what you believe Oh They have the god Rourog I don't know how to play I think we'll play Lucio After the second game All day Ma stanno trollando ardissimo questi troller di merda Vabbè loro hanno un rodog fortissimo, il rodog è davvero buon ragazzo Lo vedo, il rodog è davvero buon Sì L'abbiamo giocato con lui, e ha giocato 100% di hook 100% 100% Sì sì sì, 80 hook No, cheater bro, cheater Hocker, Hocker 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 Hocker, Hocker No, let me eat the orbs Take some damage W Oder Terra O Geo Hocker Hocker Un tiro 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 si, prendi il mech pack quando hai bisogno di healing prendi il mech pack non mi ha bisogno di heal non mi ha bisogno di heal io non mi ha bisogno di heal no no no, stanno carichando il costo shiro stiamo facendo hack, facendo hack stiamo facendo hack non ho spiel, ho bisogno prendetelo, bravo shiro che cosa vuoi? che cosa vuoi? 70 70 devi prendere devi prendere devi prendere non lo so non lo so dva, cosa vuoi? dormi dormi perchè ti vuoi? ok 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 ok, buono devi hack hack the main man oh hack the main? ok 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 go 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 kill sorry kill sorry wow i can kill soldiers soldiers dead vaynar is coming today vaynar is on the right side with vana vaynar is about here guys vaynar is coming, go hulti sleep ooo oh 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 i'm fined i'm fined please he's angry he's dead you shiit my friend i could get another hack like really good 40% i can come if they take some damage or like i drown La prima volta che vedo Sombra funziona Se qualcuno è buono per ottenere l'EMP è davvero buono Sì, potremmo usare ogni combo per cercare loro Stanno hanno me Stanno hanno me Sì, un po' di cura e me le ti curo, Shiro C'è qui? Guarda? Sì, hanno me Quasi, devo spedboosti all'ottoguardo Ok? Ok, vengo da parte Ok, vengo da parte Cosa vuoi mi fare? Poi? No, dobbiamo usare la grava Faccio il mondo F*** Poi, pii, pii F*** MEDE UZE F*** Sì, perché dobbiamo andare tutti insieme, non due a un tempo Ciro, perché sei andato senza fare il conteggio dentro? Ti sei fiondato, ce l'hai lasciato tutti fuori Fai il conteggio, che sei il primo della fila Sì, hanno usato Mei e Zarya Sì, hanno usato anche il Shader Sì, hanno usato quasi tutto Sì, hanno Zen ult, ora Vuoi me hack Mei? Posso hack Mei Sì, sì, sì Ma è il problema 1 second T'icc'è d'amage Ryan? No, c'è n'a1 Ma è sì, sì, sì No, no, no No, no, no I'm still doing it No, no, no I'm still doing it All shattered, all shattered Sì In fact, right No, no, no They use Zen ult, back up They use Zen ult They use Zen ult Hold this up, third the back If you play point we can EMP No, 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 no Reset Oh, no There's no point, there's no point I'm gonna hack, I'm gonna hack point Just hide, hide, hide Go, 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 go Fight, 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 fight Nice, nice, nice Soldier top, we got ulti Ride one, ride one Oh shit Sala's up top Sala, 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 Sala Dead, dead, dead Ciro, copri me with the scudo, Ciro Thank you, go, go, go Oh yeah, oh yeah Lucius, work together, work together Or Ana's dead now I have 18 on grab You're new Kill Zarya Yeah, yeah, yeah I don't have healers I'll get one third I've got, I've got Bravissimo Ciro when I'm coberto Actually, I don't know if I should switch I'm 50% Yeah, we can execute it better this time So guys, the problem is the soldier Our defense go all the time on the soldier Yes Yes There is Mei on the left Stop killing We need the mega Where are you at? 80, 80, 80 Can we go? Can we go middle now? Yeah, we need to go from the middle All together Okay, nice, nice, nice Nice What the fuck was that this big? Where are we going, Ciro? We have to go middle Yeah, go point, go point We're made, we're made Oh, shit No, you're alone, man Ah, from the center! Oh, shit Oh, shit We've said we're going to the center But why? The important thing is to go from the center But we have to go from the center All together Stay walled Take the damage And die Every time They've said they What the fuck? Okay I'm the only one who shoots Okay, let's go middle Where is your right? This dark man? Okay, we're waiting on one person Hold on Guys, we're waiting middle We're waiting on one person Guys, we're waiting middle We're waiting on one person Hold on You want me to hack the top people? Let's go to Ana? You want me to hack them? Go, I'm gonna nano boost the D-Valve Okay? But we need to go all together, guys Do you have the speed, man? Are you ready? Yeah Can we go? Speed, speed Go, 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 go Go, go, go So you guys point I'm hacking I killed that 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 Oh, thank God Oh, no, 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 no Stand up boys, stand up boys Oh, oh, that's good Oh, boys Oh, thank God Oh, wow Wow Ffff Meno male con... Eh, ehm... Ma ogni volta andavate in due dentro Vi facevate wallare Io stavo a piangere fuori noi Ufff Mi ho fatto proprio cagare Durissimo Mamma mia se abbiamo fatto schifo Eh, dura questa Eh, se loro vanno avanti E si fanno wallare Non è dura Sono loro stupidi Perché se ti fai wallare È normale che perdiamo E dobbiamo aspettare dieci secondi E quei dieci secondi che aspettiamo La me si rifà il cd Se... Se uno fa in continuazione questa cosa È normale che loro ci bloccano Bisogna entrare tutti assieme speedando Mace and Torv, I think C'è Did they run Zarya or D.Va? They had Zarya 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 Tracer Tracer è andufilisti Tracer è andufilisti Ma all'altro si, 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 si hanno ammazzato hanno clacciato questa cosa ha clacciato GarniFex con quel muro Ci siamo tutti chiusi, io pensavo che pushavate Invece ci siamo rimasti Ma non ha messo le torrette al tipo È andato avanti, ha messo 6 torrette e l'ha buttata Ok, andiamo Sì, possiamo boost me up top right? Can you boost me up? Oh yeah 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 Thanks D.Va, D.Va, on the very right Can you heal me real quick? They're in? Oh, they're all in Andamani! 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 We're still on it! We're still on it, man! Nooo! Is that it? Are we good? Are we good? Nice, nice! kill the D.Va, kill the D.Va! Sì, è un po' di più 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 Ok, vabbiamo Ok, vabbiamo Ok, vabbiamo Mi ultimo ha rin, mi ultimo ha rinato Ma è solo, bisogna guardare Se si guarda la parte, se si guarda Oh, devi anche a boost Sì, c'è un po' di più Sì, c'è un po' di più Sì, c'è un po' di più Ok I have wall, they try to count They put a wall, they're coming to you Counter wall Rai's one, Rai's one We killed Ryan, we killed Ryan You and Mei on top, with Ana I got one down Rauhish B Rauhish B Oof Maybe, can you get a whist on so I can boost you? On the points? No, no, it's fine, it's fine, it's fine I almost have me ulti Nice, nice, nice F*** Dead Can you get a point or no? Yes, yes, yes Rai non zutti me Come on guys Nice Get the other F*** Alright, we're gonna hold this Nice, nice, nice Nice hold Am? Thank you dude So maybe me and McCree Top right Wait 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 for me They have soldier, they have soldier now I'm gonna actually go switch to soldier Wait what? I'm switching to soldier I don't know if I should switch D.Va, they're coming top again In top He's out Freezing in there Reinhardt's behind us Oh, soldier, soldier Careful, Reinhardt, careful Reinhardt's on point I think I can't do much I can't do much Oh, we're good, we're good TCC, we already want Reinhardt's on top I'm going for soldier 1 HP Soldier's coming, where? Can I get some melee man? Guys, where is soldier? Try to find a soldier He's alone He's alone Top left He's with the team Can you boost me and the McCree top right? Boost me and McCree Oh, they're doing the same shit Hurry, they're coming in Oh, I can't get him You guys get 5 points Oh, nice, nice, nice Nice, nice Help, help Stop, stop, stop Oh shit, no, chill on To the beach, you gotta go Stop, stop, stop What's he on this, me? I'm frozen I have to die Good 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 Good, Ciro I called the Zenyatta I'm sorry I'm wrong I got the kill I got the kill I got the kill Okay, so If me and McCree If me and McCree If me and McCree stay top right together We can make some shit together Run away, run away with this What the hell? Put me up Put me up, put me up Put me up, put me up Just some Moreno Put me up, put me up No, 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 no Okay, okay Okay, okay Yeah, they're all top left again Try to ult them yes 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 i got baited i'm done i'm in a top left they're going through wow on point oh come on i'm coming back i'm melting nice bravo shield below i think nice nice oh you're fine okay so let's try me on mccree stay there okay 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 so guys if they're pushing the point i will run away okay i will jump on point and run far right yeah top left oh yeah they're coming top left they went okay okay yeah they're running three tanks one stop so get diana nice 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 great perfect perfect so calvin calvin i can nano boost you yeah it's up to you man i can stay with you if you want they have to go from the middle they have to go from the middle so just try to wall them off okay 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 sounds good okay okay sounds good middle 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 i wall oh 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 god damn soldiers alone maze one maze one okay 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 i'm going to chase her i'm going to chase her there's someone else to chase her okay ryan's low ryan's low come on bucky come on bucky come on bucky can we win i don't think so get on the point oh 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 it's fine it's fine we are on overtime okay okay let's go it's fine it's fine yeah we were on overtime just swap sombra in this moment play sombra il mainada del mio team è qb allora cazzo però veniamo da middle come abbiamo fatto a non wallarli ah wall out to the rest no maybe we play mate? yeah yeah play mate ok ok no 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 i don't think we should play Sam you can play Sam man if you want ok so remember guys they will probably rush left so let's put some shit there you should cut Sametra ok you sure you sure you sure it's fine then also some some trap here are great if they try to jump that's an important yes too many man too many put some here here yeah there there nice nice weirdo wow wow what the fuck how did he know? they're going through i won't what a douche bag what a douche bag dude go this right go this right go this right ah ah fuck not do you wanna go? cos are cos are come 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 back in come back in yeah we have tp fuck fuck god damn it y'all die g'et palle put that tp on i don't know somewhere top they will rush from middle yeah i walled you off but like you were gonna die anyway so i tried to kill the zarya fucking cat so shield up 30 seconds probably gonna come main i'm looking for a wall got one nice they coming from under under Ciro, io ce l'ho tutti sul punto, non so come fare Ciro, io ce l'ho tutti sul punto E vi siete andati a chiudere là Madonna mia E che potreste rinare? Vogliamo provare qualche cosa, D.Va, Winston, Genji, qualcosa Damping, di annos, cosa che cosa nemmeno io l'ho capito di essere in difesa Conta Ciro sei andato lì in basso nell'angolino da solo Eh lo so lo so non ti potevo curare Perché c'avevo la Tracer addosso La Zaria che è passata da mid Con la Mei Cioè ero circondato Conta Stavamo tutti a sparare Mamma mia infatti l'abbiamo uscita proprio Do you want to do the same thing they do or like try and go normally Bando con la Guido 21% di ulti They have me, they have me Cosa fa Lucio They have me, watch out, they know it It's broken You're good, you're good, you're good You're good, you're good, you're good She faked Let's go Nooooo Rhyne go, Rhyne go Rhyne go F*** Oh no F*** F*** P*** I'm with you LHC Ok, ok Rhyne, Zain, purple Oh no, i have no chison Zaria, Zaria, Zaria Hai, bubble, hai, bubble Zaria has one HP bravo, tieni la la, tieni la la Ciro ragazzi dietro ragazzi dietro ragazzi hanno ucciso l'altro in sta tutto in mano 2 giro bravissimo giro ah against this combo? go uro guarda il combo guarda con me vuoi andare a middle? we have to go from the middle but speed inside ok? we need to speed all together stay grouped reynard make the count everyone is here? go 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 nice zarya low zarya 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 low upper upper uro uro zarya sneo uro 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 saht tracker nce guard Sì ma come cazzo vi ho tenuto su ma come cazzo vi ho tenuto su come vi ho tenuto su ciro let's go boy mamma mia stato veramente un bel game è il secondo non si è abituato a sta cosa che cazzo di giocato è fatto ma ciro tu non ti sei accorto di niente ora aggiunga calvin dai oh dio ragazzi che bello che mi dico una love you power è stato il primo che ho avuto un 2 cp ma oh dio 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 oh dio